7 Arrivate la Iacona, Kevin Massa, Poliroller e Dominic Cecchini, Polisportiva San D'Azario 12esimo e 11esimo in qualifica Sembra leggermente in vantaggio, infatti così è 18-564, Massa 18-919 In position, set C'è una falsa partenza In position, set Numero 45, prima falsa partenza, 4-5 Set Ed è partita la batteria con gli atleti che si sono classificati con il decimo e nono tempo rispettivamente Sono qualificati con il decimo e nono tempo La viola Elia Felicetti, Santa Maria Nuova e Cristian Manzotti, Polisportiva Bellusco 18-564 da Barter, chiude con 18-547, Cristian Manzotti In position, set Partita anche la terza serie con Amantia Lugato, Cristian Manzotti e Alessandro Covelli 5 mobili canturi, non ne ha fare meno di 18-5 Non ne ha fare meno di 18-5 per andare avanti Caratteristica andatura di Amantia Lugato Occhio al tempo ed è 18-501 Miglior tempo, Alessandro Covelli In position, set Francesco Pertolo che è anche compagno di squadra di un altro grande velocista Per una delle team sprint più veloci d'Italia Davide Tagliente Velocista ma non solo Occhio al tempo 10-18-178 Ed è miglior tempo Francesco Pertolo 18-18 In position Set E oggi siamo in piena lotta per il podio Con De Angelis e Manai Due atleti molto diversi dal punto di vista non solo fisico ma anche di attitudine Al patinaggio Occhio al tempo Arrivano in questo momento 18-241 per De Angelis E 18-310 per In position Set 18-178 da battere Grande frequenta per entrambi Si incontrano Potrebbe essere la finale anche di un campionato europeo Con questa Ceola e Busiol Occhio al tempo 17-773 Riccardo Ceola 18-148 Per